Si chiama perna, naturalmente è dedicato, come potete immaginare, naturalmente alle donne, è una donna, la voglia rara, ha giusto il suo bene, e quindi pensato a te naturalmente è compensato di prepararvi questo toccel meraviglioso, utilizzando naturalmente oltre ai prodotti nobili, nella perna di caldo, ad alcuni dei prodotti che mi sono andato a ritrovare e a studiare come meglio naturalmente si potevano naturalmente a soggiare e a bisognare. Utilizzando, eccoci qua, come dicevamo, i nostri prodotti nobili, con l'ausilio naturalmente a ridotto. Un'altra tecnica di preparazione è sia l'uso delle fialette o provette, come li vogliamo chiamare, sia per una versione scenografica, per non versare sempre il solito prodotto direttamente dal bicchiere, dalla bottiglia nel bicchiere, ma utilizzando queste provette, creando naturalmente la giusta dose per quanto riguarda il cocktail e creando un aspetto scenografico divisamente diverso. Un libro del friello, ecco. Un libro del friello, ecco. Un libro del friello, eccoci qua, non c'è il ciloppo di rosa camina metallizzato. Un libro del friello, eccoci qua, a noi, e a mio ciloppo di rosa camina metallizzato. Questo è che naturalmente come è già considerato e notato, naturalmente abbiamo della portatura su questi bicchieri, una portatura alla quale mi sono avvaluto delle spezie in questo mondo che è tanto meraviglioso, ma è tale che quando si va a consumatore e lo va tranquillamente a bere, ha l'onfatto che probabilmente abbiano questi dettori meravigliosi. Io ho trovato ultimamente un'associazione che mi destino, che mi torno a vedere, non c'è più scala, cattilla e che ho dedicato a loro frittati insieme ad un piccolo di cardamomo. Adesso passiamo al servizio, se per sé, con il passaggio della vodka Citro, e alla quale, eccolo qua, beh facciamo un applauso, un applauso, un applauso. In questo caso abbiamo un cocktail uguale all'altro e non con delle differenze sostanziali. dopo di ciò naturalmente ho cercato di aggiungere del mio, signori, in questo cocktail con l'ausilio di alcune gocce di olio essenziale, di bergamotto, di tutto mediterraneo, poco utilizzato nei cocktail, ma di grande effetto e di grande aroma e profumo. È del tutto in solido, naturalmente. Bastano poche gocce per aromatizzare il cocktail insieme ad una goccia imperiale, goccia imperiale ottenuta naturalmente da un infuso di erbe, da cui prevale... ma glielo facciamo quest'applauso! Grazie! Grazie a tutti.